Volley maschile, Milano ha un passo dalla finalissima dopo il successo in gara 3 della semifinale playoff a Civitanova, Maurizio Colantoni. Senza paura con le idee chiare e spugna il campo dei campioni d'Italia con un secco 3-0. Milano vuole sabato avrà il suo match point per la finale in casa contro Civitanova. Per il roster di piazza, grande gioco di squadra, l'argentino loser MVP e un grande schiacciatore cubano dal nome Megareco. Certo quanto stanno facendo bene i cubani in questo campionato e tu sei uno di questi. Sì, molto contento di arrivare alla semifinale con questa squadra. Poi Milano vuole vincere tutto la partita. Questa gara è più importante per noi. Adesso andiamo a casa il sabato, che è la prossima partita, e andiamo avanti. Te l'aspettavi di poter vincere qui a Civitanova, che è la squadra che ha vinto gli ultimi tre scudetti? Di aspettarmi, me lo aspettavo, perché andiamo con la testa tutti insieme, pensando nel punto a punto, nella prossima giugata. Questo è importante per le squadre, per le squadre quando stanno insieme è imparabile. Per te è il primo anno che sei in Italia. Cosa significa per te? Tutto, tutto. Significa tutto per me, perché in Italia è il più forte del mondo, nel parabolo. È complicato, ma andiamo avanti, sempre pensando a migliorare, 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 e così va bene.